Una caravana di carriattrezzi che traina 18 veicoli sequestrati è simbolo di un imponente servizio di controllo organizzato dai carabinieri della compagnia di Giuliano insieme a quelli del reggimento Campania, della stazione forestale di Pozzoli e ad un velivolo del nucleo elicotteristi di Ponte Cagnano. Si è tacciato palmo a palmo il campo Roma di Giuliano, insediamento che sorge in zona Asi e che conta circa 200 baracche distribuite su una superficie di 50.000 metri quadrati. 10 le persone denunciate per inosservanza dell'istruzione elementare, si tratta di genitori di bambini che nonostante l'obbligo imposto dalla legge non hanno mai frequentato i banchi di scuola, un fenomeno diffuso quello della dispersione scolastica, specie in realtà come questa. 18 veicoli sequestrati non erano coperti da assicurazione e sono stati portati via da decine di carriattrezzi fino alle depositerie giudiziarie individuate. Molti erano intestati a persone inesistenti, altri saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti perché di origine verosimilmente delittuosa. Nel campo sono state rilevate tonnellate di rifiuti anche speciali e pericolosi. Erano stoccati sul terreno, tra le abitazioni di fortuna, senza alcun filtro o copertura. Un rischio rilevante per le falde acquifere e l'ambiente circostanze e una potenza alle micce di innesco per roghi tossici. Il totale stimato di immondizie raggiunge un cumulo di circa 10.000 metri cubi. Nel conto anche solventi, pneumatici, lastre di amianto, elettroromessici, scarti edili e tanto altro. Saranno campionate rimossi dal personale specializzato. Semestrati anche centinaia di attrezzi per lo scasso, recuperati e affidati a una ditta specializzata che provvederà alla loro distruzione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.